Signori benvenuti, 99esimo episodio di Dragon Ball Super, di conseguenza 99esima recensione, infatti si, sono ben 2 anni e 2 giorni che stiamo recensendo Dragon Ball Super ogni settimana con un nuovo episodio Il che mi fa davvero contentissimo e mi fa piacere che questa serie ormai più si va avanti e più viene eseguita costantemente Quindi sono davvero contentissimo Fate tutte queste premesse che in realtà nemmeno erano premesse ma comunque ci tenevo a sottolineare che sono passati 2 anni dall'inizio della serie E sono passate ben 99 recensioni più tutti gli altri video approfondimenti e la prossima settimana ci avviamo verso il centesimo, roba da paura Quindi parliamo di questo 99esimo episodio poiché è stato molto molto particolare Ricordiamolo, siamo al terzo episodio dall'inizio del torneo del potere e quindi le cose iniziano già ad entrare più nel vivo Abbiamo già diversi universi che iniziano a farsi da parte come ad esempio l'universo 9 che ci ha già abbandonati L'universo 4 che sta per abbandonarci ed abbiamo anche diverse dinamiche che si stanno ecco svolgendo che stanno prendendo forma all'interno del ring Dove abbiamo anche l'universo 6 e l'universo 7 che continuano a stuzzicarsi, l'universo 11 che continua ancora a mantenere il suo guerriero più forte che non è stato minimamente toccato L'universo 2 di cui si è persa completamente traccia, non si vede più addirittura il guerriero di Hardrat, sono completamente scomparsi Ma comunque ci avviciniamo sempre di più nel vivo del torneo quindi con i veri e propri combattenti che iniziano a farsi avanti Infatti in questo episodio abbiamo visto, ok, quasi la dipartita totale dell'universo 4 ma abbiamo visto anche un combattente dell'universo 7 farsi da parte Ma ci arriveremo sicuramente a brevissimo, infatti ripartiamo come al solito dall'inizio con la distruzione quindi del non universo E tutti gli altri combattenti, compresi gli dei della distruzione, che rimangono attoniti di fronte a quella scena E a dir la verità sono stato molto contento che ci abbiano riproposto ancora una volta la stessa identica scena comunque dello scorso episodio In questo qui per farci rientrare di nuovo nel mood, per farci capire che effettivamente adesso, in questo momento I guerrieri hanno realizzato cosa vuol dire davvero il torneo del potere E quindi c'è anche il bisogno di far entrare nel contesto anche lo spettatore Quindi di incutergli almeno un pochino di paura, ad esempio per il proprio universo E quindi dopo questo inizio shock, tra virgolette, abbiamo un dialogo che mi è sembrato abbastanza propiziatorio Non so come chiamarlo, poiché una volta, diciamo, assistiti alla scena quindi della distruzione della dipartita del non universo C'è Vegeta che sottolinea di voler vincere il torneo per ottenere le super sfere del drago Bene, sei ricchissimo sulla terra, cosa te ne devi fare delle super sfere del drago in realtà? Non credo tu abbia più l'intenzione di diventare il re dei Saiyano o di conquistare il mondo Hai una famiglia, hai ormai tutto, e dico tutto, compresi i soldi Cosa te ne devi fare delle super sfere del drago? Se non salvare gli universi che sono stati distrutti da Zeno E quindi sì, io l'affermazione di Vegeta l'ho vista in quella direzione Ma credo che tutto il settimo universo abbia comunque intenzione di vincere il torneo proprio per ottenere le super sfere del drago E quindi per riottenere ancora una volta la stabilità di tutto l'universo e di tutti gli universi Anche perché tutto ciò che stanno vivendo gli universi presenti all'interno del torneo del potere Non sono altro che la conseguenza della sceleratezza del carissimo Goku Sceleratezza che però, come sottolinea il Kaioshin dell'universo 1 dopo la distruzione del non-universo Si trasforma in realtà quasi in una salvezza Il che ci fa vedere tutto il torneo da un'altra ottica Quindi ci fa capire il Kaioshin dell'universo 1 che la distruzione che sta per avvenire all'interno del torneo del potere Era un qualcosa che sarebbe comunque dovuto già avvenire pre-torneo Quindi ci sarebbe dovuto essere un equilibrio all'interno degli universi Con quindi tutti gli universi al di sopra del settimo mortal level che si salvano E tutti gli altri universi che vengono distrutti Ma con il torneo del potere, conseguenza della sceleratezza ancora una volta di Goku Però c'è la possibilità che uno di questi universi che sarebbe diciamo andato distrutto Si possa alla fin fine salvare E quindi ripeto, come ci fa notare per l'appunto il Kaioshin dell'universo 1 Goku in questo momento tramite il torneo del potere sta invece dando la possibilità ad un universo di salvarsi Il che appunto ci fa vedere tutto da un'altra ottica E signori devo dire la verità È stata una cosa creata ad hoc Ma ci sta ancora una volta E la vedo ancora una volta come una paraculata questa qui Per rendere diciamo l'operato di Goku ancora una volta non tanto malvagio come sembri Non voglio minimamente credere che Goku abbia messo fin dall'inizio già tutto in preventivo E cioè che tutti gli universi sarebbero andati distrutti E che quindi tramite il torneo del potere un universo si sarebbe potuto salvare Non voglio crederlo minimamente Quindi lì è stata una sceleratezza ma allo stesso tempo l'hanno voluta paraculare Ecco, e sto anche iniziando a perdere la voce Grandissimo Speriamo che ci siamo ripresi eh Mi sa di no, però speriamo Passiamo quindi avanti Poiché abbiamo ancora una volta un Freezer a dir poco ottimo Infatti una volta assistito alla scena della distruzione del non universo Freezer prende di mira Zeno Dicendogli addirittura che dominerà anche su di loro Che quindi padroneggerà, governerà tutti gli universi Compresi Zeno e anche Kaioshin Eh sì Kaioshin Dai Shinkan E dopo questa breve parentesi passiamo quindi allo scontro Vero e proprio tra virgolette Fra il sesto e il settimo universo Dove abbiamo da una parte per il settimo universo Vegeta Dall'altra parte per il sesto universo abbiamo Botamaghetta Infatti sì, abbiamo una strategia da parte del sesto universo Che a dir la verità è brutta a vedersi Ma signore è funzionale Infatti Botamaghetta cos'è? Non è nient'altro che botamo sulle spalle di Maghetta Che gli copre le orecchie Infatti ricordiamo che Maghetta è molto molto suscettibile agli insulti E infatti Vegeta prova addirittura ad insultarlo Durante il torneo del potere sotto consiglio di Beerus Ma gli insulti non sortiscono alcun effetto Poiché appunto è nato Botamaghetta Diciamo un Maghetta con le orecchie otturate Fantastico, è stato bellissimo tutto ciò secondo me Mi ha riportato davvero indietro ai tempi della prima serie Queste sono le cose, queste erano davvero le gag che accadevano durante i combattimenti all'interno della prima serie E Dragon Ball Super secondo me Ok, ricalca un pochino i temi diciamo di Dragon Ball Z Ma allo stesso tempo cerca anche di ricalcare proprio la prima serie di Dragon Ball Che ricordiamolo È da dove abbiamo iniziato ad apprezzare veramente la serie E non ditemi, mi raccomando, che avete letto Dragon Ball Z senza aver mai letto la prima serie Poiché lì mi arrabbio davvero La prima serie è il vero e proprio Dragon Ball Ok, poi Z ha reso il tutto leggenda Ma la prima serie è da dove tutto è partito E da dove tutto, diciamo, è in... Da dove la nostra passione è iniziata a nascere Quindi senza la prima serie Dragon Ball non è nulla Comunque, mettiamo da parte la parentesi legata a Botamaghetta e anche l'ultima parentesi Ma ci torneremo sicuramente su, almeno su Botamaghetta Poiché devo farvi capire una cosa per capire insieme se l'episodio ha funzionato o meno Comunque passiamo oltre perché abbiamo la coppia C-18 Krilin Che inizia a combattere seriamente E signori, devo dirvi la verità Finché durata è stata molto carina come coppia Infatti sì, dalle mie parole si capisce Ma credo abbiate visto l'episodio a questo punto Si capisce che un combattente del settimo universo In particolare della coppia ci ha abbandonati Infatti sì, ci abbandona Krilin Però non prima di aver fatto saggio delle sue qualità Ok, mettiamola così Ma anche della sua sfiga incredibile Poiché dopo aver salvato C-18 Dopo aver fatto fuori Majora con una tecnica incredibile Con lo scarpino, con... sì, con lo scarpino, chiamiamolo così Viene fatto fuori da Frost Il che è un qualcosa di molto discutibile Anche se, anche se, bisogna dirlo che è nel personaggio Infatti è stato sempre, e dico quasi sempre, in realtà Uno dei primi che ci ha abbandonati, ecco O meglio, non proprio uno dei primi ma Ci ha quasi sempre abbandonati nei combattimenti Ed è stata quasi sempre anche la vittima sacrificale Quindi, vi ripeto, è nel personaggio Quindi sta perfettamente nella serie, secondo me, sta cosa Però, fatto sta che avrei sfruttato molto meglio Krilin Avrei cercato di dargli un pochino di importanza in più Però... insomma, perché c'è stata dedicata anche una parte pre-torneo Se ricordate, quindi degli episodi prima che iniziasse il torneo Sono stati dedicati proprio a Krilin Sul suo allenamento Tutti i discorsi legati a C-18, a Goku E poi qui, invece, ce lo fanno fuori già al terzo episodio Dall'inizio del torneo Con una codata, così, con un colpo coda di... di Frost E quindi, vi ripeto, avrei sfruttato sicuramente molto meglio Krilin Magari anche come catalizzatore per Goku Però è andata così, diciamo Il tutto poi, purtroppo, secondo me, si è svolto con una velocità a dir poco assurda Infatti, nel momento in cui viene fatto fuori Krilin Tutti gli altri non se ne rendono minimamente conto Quindi non gli danno nemmeno l'importanza Che doveva ricevere, diciamo, un componente dell'Universo 7 Che viene fatto fuori all'interno del torneo del potere Va bene che si sono scagliati contro Krilin, Beerus e Kaioshin a modi occhiate Però, comunque, mi aspettavo almeno che Goku o Gohan Noi altri se ne rendessero conto di aver perso un combattente Comunque, speriamo vivamente che gli altri guerrieri almeno vengano gestiti un attimino meglio Ma, a questo punto, volevo farvi notare una cosina prima di passare alle anticipazioni Infatti, volevo soffermarmi su Majora Che è un guerriero molto molto particolare, secondo me, che ci sta tantissimo Ma su cui c'è una cosa da dire abbastanza strana, vi dico la verità Infatti, Majora abbiamo scoperto essere un guerriero addirittura senza l'uso della vista Quindi, a tutti gli altri sensi, alla massima potenza, diciamo, l'olfatto Quindi magari anche l'udito Ma è senza vista, quindi non riesce a vedere Infatti, il taio che è in percento di Krilin non sortisce alcun effetto Però, signori, il problema è che, ok, ci viene mostrato tutto il tempo con gli occhi chiusi Quindi, poiché non ha la vista Ma potrebbe, magari, essere anche una strategia da parte sua Va bene che il taio che non ha funzionato su di lui Anche se aveva gli occhi chiusi Ma, con tutti gli occhi chiusi, forse, il taio che sarebbe stato troppo Boh, non lo so Ma fatto sta che, non so se l'avete notato, se ci avete fatto caso Ma all'interno della opening, Majora o Majora viene mostrato con gli occhi aperti Quindi, decidiamoci E viene mostrato anche con delle pupille ben visibili Che, boh, non lo so se può voler dire qualcosa Ma comunque, fatto sta che È strana sta cosa Poiché, mettiamoci d'accordo O ce l'ha vista sto qui o non ce l'ha Perché nella opening me lo mostrate con gli occhi aperti Visibilmente Che riesci anche a vedere magari E nel torneo me lo mostrate senza vista Vabbè, questi sono i misteri della vita, ecco Ma comunque, mettiamo da parte tutto ciò Tanto nemmeno ci interessa più Dato che Majora ci ha abbandonati Quindi, insomma, non ci può interessare de meno E passiamo alle anticipazioni Dove vediamo un paio di cose interessanti Ma che, ovviamente, approfondiremo durante il corso della prossima recensione Infatti, abbiamo prima di tutto la conferma ufficiale Come vi dissi già tempo fa Colifla ha raggiunto, effettivamente, lo stadio del Super Saiyan di secondo livello E ce lo conferma proprio Goku durante un dialogo Poi abbiamo Kale che si trasformerà in Super Saiyan leggendario O meglio, nella sua forma Berserker Ma non sembra di aver riscosso tutta l'attenzione che ci saremmo aspettati Infatti, per l'appunto, sì Sembra che Broly per gli altri non è mai esistito Quindi, tutto preventivato, diciamo, ce l'aspettavamo Broly, ok, è stato reso canonico tramite Kale Ma allo stesso tempo non è mai esistito Quindi non è mai stato canonico Come tutti sapevamo, ecco, cioè, insomma, non c'è nient'altro da dire su tutto ciò Quindi, comunque, vedremo nel prossimo episodio il tutto come andrà a finire Però, per il momento, sappiamo che il Super Saiyan leggendario non ha un nome Quindi, si chiama Super Saiyan Berserker Come vi anticipava già il tempo fa Broly, nulla Non esiste minimamente all'interno dell'universum di Dragon Ball Ed abbiamo anche Colifla, Super Saiyan di secondo livello Che combatterà contro Goku, Super Saiyan di secondo livello Quindi sarà molto, molto carino vedere il combattimento fra di loro, ecco Quindi, a questo punto, traiamo le conclusioni riguardo questo episodio Inizialmente mi era stato dipinto come il male assoluto, come un episodio a dir poco inguardabile Invece vi dico la verità, secondo me si è lasciato guardare È stato un episodio carino, a peccato, secondo me, diciamo, a livello registico in particolar modo Poiché si è passati da uno scontro all'altro con una velocità a dir poco assurda E a tratti non ci ho capito manco niente, vi dico la verità Ok che le cose basilari le abbiamo capite Quindi Magiore è stato fatto fuori Bota, Maghetto, ok Sono diventati fortissimi o cose simili, va bene Abbiamo capito un pochino come è andata a finire Però allo stesso tempo i combattimenti sono stati molto, molto, molto confusionari Insomma, non si sono capite le reali intenzioni di questo episodio Ecco, quindi episodio che secondo me passa la sufficienza Anzi, raggiunge la sufficienza ma non si discosta più di tanto per l'appunto da un 6 Ecco, mettiamola così A livello grafico, secondo me, si è comportato abbastanza bene Quindi animazioni sicuramente molto, molto fighe Ci sono stati dei disegni a dir poco bellissimi Mi è piaciuto tantissimo quello legato a Shin Non lo so, credo, spero di farvelo vedere In realtà E a livello sonoro, anche se è comportato abbastanza bene Però a livello registico, secondo me, ci sono state delle pecche Bisogna strutturare molto meglio questi episodi Poiché, ok, Battle Royale che è un caos Ma se rendiamo anche a livello registico l'episodio un caos Davvero, non si capisce più niente Quindi, signori, a questo punto concludiamo qui anche questa recensione Quindi vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuta Lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio e anche della recensione Quindi, iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, condividete questo video E quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video Ciao! 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 Ciao!